Marotta non si accontenta di Pavard, occhi su un centrocampista, gioca in Serie A. Il settore nevrancico del campo è il settore nero-azzurro che ha subito meno variazioni rispetto alla scorsa stagione. Fuori Gagliardini e Brozovic, dentro Frattese e Sensi, che è tornato alla base dopo il prestito a Monza. Proprio la posizione di Stefano Sensi è a rischio. L'ex Sassuolo può lasciare l'Inter nelle ultime ore di mercato e Marotta sta già pensando al piano B. In base a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il dirigente nero-azzurro avrebbe messo gli occhi su due calciatori. Maxime Lopez del Sassuolo e Bubacarissimo Maré del Leicester. Il mediano del Sassuolo vuole cambiare aria. In estate è stato accostato a diversi club di Serie A, tra cui il Napoli, ma spaventa l'alta richiesta di carnevali. Almeno 15-20 milioni di euro. Per abbassare la parte economica potrebbe rientrare nella trattativa proprio Stefano Sensi. Per lui sarebbe un ritorno. Infatti ha giocato nel Sassuolo dal 2016 al 2019. Somaré invece è in margini del club inglese. Non ha intenzione di giocare in Championship e in questa stagione non è ancora stato convocato. Il Leicester quindi potrebbe lasciarlo partire nelle ultime ore di mercato. Secondo voi, Maxime Lopez è pronto per una big di Serie A?